Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, allora buongiorno di nuovo. Oggi torniamo a parlare di compilazione dei certificati di destinazione urbanistica con QGIS, in particolare col plugin che abbiamo sviluppato e rilasciato oramai da parecchio tempo, probabilmente sono già un paio d'anni almeno che il plugin CDU Creator è stato rilasciato sulle repository ufficiali di QGIS. In particolare oggi faremo di nuovo appunto un excursus sul plugin e vedremo anche intanto qualche piccola novità perché è comunque un plugin che stiamo cercando di mantenere molto vivo, quindi costanti aggiornamenti, introduzione di nuove funzionalità, ma vedremo anche ad esempio una versione che noi definiamo customizzata del plugin, perché sicuramente noi continuiamo appunto a mantenere e a sviluppare la versione disponibile, diciamo, gratuitamente dal gestore dei plugin di QGIS, ma sviluppiamo anche su richieste diciamo versioni personalizzate del plugin e andiamo a vedere oggi che cosa intendiamo per versione personalizzata. Inoltre vi presenterò brevemente anche il sistema di gestione delle istanze online che abbiamo appunto sviluppato recentemente per una delle nostre attività. quindi andiamo a vedere ok, più o meno di cosa parleremo oggi, scusate sono andata troppo avanti, quindi appunto rifacciamo questo excursus sul plugin CDU Creator e poi appunto ci addentriamo anche in alcune diciamo novità e ovviamente lasceremo poi come sempre spazio a eventuali domande, ma anche presentazione di insomma proprie esperienze professionali ovviamente nell'ambito del GeoBreak. Allora, per chi non lo sapesse, CDU Creator nasce un po' da un'iniziativa, diciamo così, tra virgolette personale di Digiter, in particolare del settore GIS di Digiter che appunto costantemente lavora con le pubbliche amministrazioni e realizza sistemi informativi territoriali sia diciamo lato desktop ma anche lato web e appunto ci troviamo spesso a interfacciarci con pubbliche amministrazioni anche di diverse dimensioni, quindi dal piccolo comune appunto ad amministrazioni più grandi e spesso nonostante magari con queste amministrazioni ci interfacciamo anche su argomenti diversi non necessariamente legati alla norma urbanistica e via dicendo ci siamo a un certo punto resi conto che spesso poi nelle classiche chiacchiere alla macchinetta del caffè quando si potevano fare parlando con i tecnici della pubblica amministrazione spesso poi emergeva il problema legato alla gestione del dato urbanistico, del dato catastale che qua dovremmo andare ad aprire un altro diciamo vaso di Pandora e di conseguenza poi anche tutte le eventuali problematiche legate alla compilazione dei CDU. A quel punto abbiamo diciamo capito che questa poteva essere un'esigenza che in qualche modo avremmo voluto cercare di affrontare per fornire anche uno strumento che fosse appunto di facile utilizzo ma soprattutto che appunto open source naturalmente e che appunto potesse in qualche modo agevolare i tecnici nell'espletamento delle loro attività legate appunto alla compilazione dei certificati. Abbiamo quindi deciso di sviluppare appunto questo plugin la versione diciamo proprio oserei quasi dire 0.0 è stata completamente autofinanziata da GTR c'è stata poi ad esempio una campagna di crowdfunding che si è conclusa con successo e che ha permesso di integrare nuove funzionalità in particolare la possibilità di compilare il certificato per più particelle contemporaneamente cosa che invece nella versione diciamo originaria proprio appunto la versione 0.0 del plugin non era ancora possibile. Come funziona il plugin CDU Creator? Appunto abbiamo cercato di renderlo diciamo il più semplice possibile ovviamente sono necessari i dati dei terreni catastali e sono necessari i dati relativi allo strumento urbanistico vigente per la pubblica amministrazione. Dal punto di vista diciamo geometrico sia i terreni diciamo il livello dei terreni catastali che gli strumenti urbanistici sono appunto geometrie poligonali per lo strumento urbanistico ovviamente possiamo avere anche altri tipi come ad esempio delle linee quello che è più diciamo vincolante sicuramente è poi anche la parte di informazione alfanumerica associata ai dati. Devono essere infatti compilate le tabelle in un dato modo proprio per permettere poi al plugin di insomma capire dove andare a recuperare i dati. Di fatto il motore quindi diciamo l'operazione principale che sta alla base del plugin è un'intersezione per cui di fatto selezionando una o più particelle le particelle selezionate vengono intersecate con i layer dello strumento urbanistico da questa intersezione vengono di fatto recuperate tutte le informazioni alfanumeriche associate ai poligoni di intersezione alle geometrie di intersezione e vengono poi opportunamente diciamo inserite in un documento che può essere diciamo salvato direttamente dal plugin o in formato DT quindi modificabile o direttamente in formato PDF. come vi dicevo è un progetto che stiamo cercando di tenere molto vivo perché comunque abbiamo notato che c'è un certo interesse sull'argomento spesso ci vengono richieste appunto nuove funzionalità che cerchiamo insomma compatibilmente con le disponibilità di tempo e insomma proprio di forza lavoro disponibili cerchiamo sempre di in qualche modo implementare soprattutto se riteniamo diciamo essere funzionalità effettivamente di interesse generico ecco diciamo nel senso che è ovvio che se una persona mi contatta per dire non so ma puoi mettere su cdu creator direttamente il nome del mio comune è ovvio che questo non è possibile perché renderebbe il plugin uno strumento diciamo custom per quella specifica utenza comunque diciamo che appunto una delle ultime novità che è stata introdotta è appunto la possibilità di selezionare le particelle catastali direttamente importando un file di testo o csv che contenga appunto l'elenco delle delle particelle che si vogliono selezionare ovviamente il il file appunto di testo csv deve essere compilato in modo tale che il plugin sia in grado di identificare la particella desiderata per cui bisogna quantomeno sempre indicare il numero di foglio e il numero di mappale separati da da una virgola ogni riga deve corrispondere appunto a un mappale e nel caso appunto di file csv ovviamente deve essere anche inserita la classica intestazione col titolo delle colonne e ci sono poi tutta una serie di controlli come dovremmo vedere qua ecco da dalla gif animata che dovreste vedere adesso il plugin ovviamente fa anche tutta una serie di controlli sui file che diamo in in input e in modo appunto da verificare che non ci siano banalmente errori di battitura o cose di questo tipo quindi assolutamente in grado nel caso di segnalarvi anche eventuali errori o problematiche che in qualche modo gli impediscono appunto di selezionare correttamente le particelle esattamente come stiamo vedendo in questo momento nella gif animata per quanto riguarda la preparazione dei dati come vi dicevo anche prima appunto ci sono un po di regole da rispettare regole che ovviamente sono ampiamente descritte e appunto descritte e illustrate nel manuale del del plugin che è ovviamente anche questo disponibile online direttamente raggiungibile tra l'altro dall'interfaccia del plugin semplicemente cliccando sul pulsante guida che avete appunto nell'interfaccia e vi dicevo sono regole che sicuramente la prima volta possono sembrare quantomeno noiosi da applicare mi rendo conto ma è anche vero che una volta applicate di fatto ci si può creare cioè il consiglio che diamo sempre noi ovviamente quello di crearsi proprio un progetto QGIS dedicato all'utilizzo del plugin cdu creator in modo da appunto non dover ogni volta di fatto ripreparare tutti i dati questa questa fase può quindi essere fatta un'unica volta salvare poi le tutte queste impostazioni nel progetto e quindi di fatto poi utilizzare quel progetto semplicemente per far girare il plugin vado abbastanza veloce su queste righe su queste regole ne cito appunto semplicemente alcune ehm come vi dicevo appunto il layer dei terreni catastali deve essere un vettoriale non è importante il formato può essere uno shape file può essere un geo package può essere una tabella di un database post gis eh l'importante appunto che sia un layer vettoriale e poligonale quindi il layer dei terreni deve essere composto appunto da poligoni il nome deve essere necessariamente terreni terreni underscore catastali questo perché fa sì che dando questa denominazione il plugin sia autonomo e sia in grado di riconoscere automaticamente qual è il layer dei terreni catastali e ehm attenzione che quando dico che il nome del layer deve essere questo non vuol dire che il mio file per dire il mio shape file deve essere necessariamente nominato terreni catastali ma è sufficiente che appunto venga rinominato il layer semplicemente da da QGIS ehm nel lei nella tabella del del layer terreni catastali dobbiamo necessariamente avere almeno due colonne una contenente il numero di foglio e una contenente il numero di mappale le due colonne devono essere rispettivamente nominate appunto foglio e mappale anche qua non è necessario che sia il nome della colonna potete ad esempio qualora banalmente qualcuno utilizzasse i dati scaricati per dire da sister quindi dall'agenzia delle entrate che sappiamo avere altri altri diciamo titoli per le colonne potete semplicemente utilizzare gli alias ehm che potete sempre impostare dalle proprietà del layer di QGIS ovviamente supporta anche un eventuale terza colonna dedicata alla sezione ovviamente abbiamo reso questa diciamo questa colonna facoltativa proprio perché non tutti i comuni hanno il hanno il territorio suddiviso appunto in sezioni catastali e ehm e soprattutto ecco un'altra cosa deve contenere layer dei terreni catastali deve tenere i deve contenere i terreni relativi a un singolo comune quindi se ad esempio eh lavorate su più comuni dovreste avere di fatto eh un progetto dedicato a ogni comune oppure semplicemente più layer eh dei terreni catastali ovviamente da rinominare opportunamente a seconda del del comune su cui volete ehm utilizzare il il plugin Allora andiamo avanti Ok scusate che è un po' poco responsive ecco una precisazione che tengo sempre a fare quando parliamo di dati catastali e di plugin CDU creator è quella che appunto per il plugin CDU creator il il layer del terreni catastali è un semplice banale input che utilizza per come vi dicevo un'operazione di intersezione il plugin CDU non ha potere di eh correggere e risolvere alcun tipo di problematica legata alla georeferenziazione del catasto quindi eh appunto non è un plugin diciamo che gestisce i dati catastali in questo senso ci sono eventualmente altri plugin e nel caso foste interessati all'argomento vi vi suggerisco di andare a rivedere un geobreak che avevamo tenuto eh con la presenza appunto di Amedeo Fadini che è eh collega e e amico esperto appunto in questa in questa materia dove appunto ci spiegava un po' come gestire i dati catastali all'interno di QGIS e ehm altra altra cosa altra precisazione il plugin CDU creator non gestisce appunto l'aggiornamento dei dati catastali come vi dicevo semplicemente il dato catastale per il plugin è solo un input quindi tutto ciò che che dovete fare tra virgolette sui vostri dati catastali va fatto diciamo al di fuori dell'utilizzo del plugin allora per quanto riguarda invece i dati urbanistici anche in questo caso ovviamente devono essere layer vettoriali non possono quindi essere purtroppo ovviamente raster o addirittura servizi WMS qualcuno in precedenti webinar o workshop sull'argomento appunto mi aveva chiesto se si potevano utilizzare ad esempio che so il WMS di un piano paesistico simile all'interno del plugin e ovviamente non è possibile devono essere layer vettoriali poligonali ora qua me ne sono dimenticata una o anche lineari suggeriamo ovviamente di avere i dati dello strumento urbanistico corretti dal punto di vista topologico e composti da geometrie valide questo perché in caso di errori di questo tipo gli algoritmi di intersezione che utilizza il plugin potrebbero restituirvi degli errori potrebbero avere dei problemi nella appunto nella proprio nella nella fase di intersezione eh tutti i layer relativi allo strumento urbanistico devono essere inseriti in un gruppo eh che verrà poi dato in input al plugin tramite l'interfaccia grafica ovviamente questo gruppo può anche essere ulteriormente suddiviso in sotto gruppi e per quanto riguarda la tabella alfa numerica eh per i dati urbanistici non abbiamo diciamo obblighi se per i dati catastali appunto avevamo l'obbligo di una una colonna almeno una colonna foglio almeno una colonna mappale nel caso eh dei dati urbanistici non sono non sono obbligatorie non è obbligatorie alcuna colonna però diciamo che per avere poi la compilazione del CDU sono consigliate al quattro colonne una contenente ad esempio il nome o la sigla della zona una contenente la descrizione una che può contenere eventuali riferimenti ad altra normativa e poi una colonna da eh compilare con il riferimento alla normativa urbanistica vigente quindi l'eventuale articolo relativo appunto alla zona in questione vado un po più veloce perché mi sto dilungando troppo eh come vi dicevo qua abbiamo un esempio appunto di preparazione del dato vedete che abbiamo un macro gruppo piano degli interventi e eh tutta una serie di sottogruppi all'interno del quale sono poi inseriti i singoli i singoli layer dal punto di vista della tabella attributi vedete che in questo caso specifico ad esempio non abbiamo utilizzato eh il cioè di fatto il nome delle colonne non sarebbe ehm idoneo all'utilizzo del plugin ma andando a inserire l'alias ovviamente abbiamo risolto la questione questo ci permette anche quindi soprattutto se lavoriamo con degli shape file che hanno dei limiti ben precisi sulla sul numero di caratteri per il titolo della colonna di inserire appunto anche ehm titoli più più lunghi eh anche in questo caso per quanto riguarda eh il nome dei layer e il nome dei gruppi non abbiamo vincoli nel senso che sempre a differenza del layer dei terreni che deve avere il suo nome specifico nel caso dei dati urbanistici non abbiamo vincoli di questo tipo si consiglia ovviamente di inserire dei nomi ehm diciamo sensati anche perché tutti questi questi nomi eh in qualche modo compariranno poi sulla nostra stampa di cdu in questa slide appunto vedete esattamente questa questa situazione no quindi dove eh abbiamo qua il il l'albero dei layer in QGIS e eh di fatto questa è la stampa prodotta da cdu vedete che appunto sia il nome del gruppo che il nome di eventuali sottogruppi che il nome del layer viene poi in qualche modo inserito nel certificato per cui diciamo è bene dare nomi appunto se sensati diciamo così quindi evitare quelle cose che spesso faccio anche io quando lavoro con i progetti QGIS tipo chiamare layer pippo uno pippo due a seconda delle varie prove che faccio e rifaccio questa è l'interfaccia grafica se avete già avuto modo di utilizzare plugin cdu creator probabilmente la la riconoscerete eh per chi invece eh non l'ha mai utilizzato o lo non lo utilizza da molto tempo noterà che insomma l'interfaccia grafica del plugin nel tempo ha subito una bella un bel restyling chiamiamolo così per cui da un'interfaccia che stava oramai diventando chilometrica abbiamo deciso appunto di suddividerla in tab quindi varie schede con tutti i vari parametri da impostare e ovviamente se scaricate l'ultima versione del del plugin avrete anche appunto il pulsante per l'importazione del file di testo csv per la selezione delle delle particelle altra cosa ve lo faccio vedere vabbè da qua questo è il pulsante che vi dicevo appunto rimanda direttamente alla al manuale del del plugin dove tutte le cose che adesso vi sto dicendo un po rapidamente sono spiegate documentate con anche video gif animate e via dicendo ok allora ci spostiamo un attimino su eh su QGIS giusto per fare una prova al volo e vedere un pochettino nel concreto tutto quello che vi ho detto però vorrei poi appunto farvi anche vedere la una versione custom giusto un po per capire che cosa intendiamo per versione custom questo è un progetto demo che utilizzo eh non solo per occasioni di questo tipo ma eh soprattutto quando devo sviluppare nuove funzionalità di QGIS questo è il mio progetto su cui testo e ritesto tutto tutto il codice come vedete abbiamo il nostro layer terreni catastali abbiamo un gruppo in questo caso che ho chiamato PUC con due sottogruppi con all'interno un'ipotesi ovviamente eh assolutamente disegnata a caso di eh piano urbanistico suddivido in zone di stretti ambiti e così via il plugin vi dicevo si installa come tutti i plugin di QGIS dal gestore dei dei plugin e una volta installato dovreste ritrovarvi la la liconcina del plugin nella vostra toolbar cliccando sul plugin vi si apre l'interfaccia grafica se non avessimo avuto caricato all'interno del nostro progetto QGIS un layer nominato terreni catastali l'interfaccia grafica non si sarebbe neanche palesata ma ci sarebbe comparso un bel errore ehm che ci diceva appunto che non essendoci di fatto un layer che si chiama terreni catastali il plugin non sarebbe stato attivato dal punto di vista appunto della selezione valgono eh le cose già eh dette in altri in altri ambiti comunque abbiamo la possibilità di selezionare le particelle sia da eh utilizzando gli strumenti di di QGIS quindi i classici strumenti di selezione oppure possiamo utilizzare i i menu presenti nell'interfaccia grafica sono di fatto menu appunto a tendina che si filtrano ehm in modo insomma conseguenziale quindi ovviamente selezionando una sezione vedrò solo il numero i numeri di foglio relativi a quella sezione selezionando un foglio vedrò solo i mappali relativi a quello specifico foglio oppure appunto possiamo provare ad importare il nostro file csv in questo caso ed ecco qua una volta che ho selezionato con uno di questi strumenti vedete che il plugin diciamo vi zoom a mh alla vostra selezione possiamo ovviamente mantenere l'interfaccia del plugin aperto ma continuare a interagire con il nostro progetto banalmente io decido che questa mh questa particella non è di più di mio interesse per cui posso andare a selezionarla e in questo modo a rimuoverla vedete che a quel punto è tutto assolutamente integrato e dinamico ovviamente gli dobbiamo dire in quale progetto troviamo potrà trovare i nostri dati urbanistici e poi ovviamente tutta una serie di parametri di output che qua voi vedete già compilati semplicemente perché appunto certi parametri vengono memorizzati dopo il primo utilizzo e se invece aprite il plugin per la prima volta probabilmente anzi senza il probabilmente sicuramente troverete tutti questi campi vuoti e alcuni ovviamente sono obbligatori come il percorso alla cartella in cui andare a salvare il cdu altri invece sono sono assolutamente facoltativi quindi sta sta a voi decidere cosa inserire nel vostro nel vostro cdu potete ad esempio decidere di inserire anche lo stralcio di mappa potete decidere se stampare i valori delle aree intersecate in metri quadri in percentuale oppure non 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 stamparli proprio potete ovviamente dare eh un un file un'immagine eh che verrà utilizzata un po' come logo quindi di solito no il classico stemma eh della pubblica amministrazione inserire eventuali intestazioni e così via una volta che avete parametrizzato diciamo il il plugin è sufficiente cliccare su ok e lui inizierà l'elaborazione in questo caso avevamo selezionato quattro particelle una volta che vediamo la scritta processo terminato possiamo decisamente chiudere il nostro plugin e andare a vedere il risultato ok questo è un po' il funzionamento appunto di plugin cdu ma come vi dicevo ehm sviluppiamo anche versioni diciamo personalizzate questo perché appunto eh abbiamo cercato di rendere il ehm il risultato di eh cdu creator il più generico possibile essendo comunque un plugin che chiunque più può scaricare ovviamente abbiamo fatto abbiamo cercato di ehm rendere l'output del plugin il più generico possibile ovvio che se però un'amministrazione ha delle particolari esigenze quindi eh vuole un layout preciso oppure eh semplicemente invece che eh restituire le varie informazioni sotto forma di elenco puntato vuole non lo so la tabella piuttosto che una riga unica ovviamente questo ehm possiamo farlo ma appunto andando a creare una versione custom del del plugin cosa intendo per ehm per versione per versione custom ehm di fatto un plugin ehm sempre ovviamente open source perché comunque eh il codice è rilasciato diciamo con licenza ehm open source quindi sempre open source ehm ma appunto dedicato a chi lo richiede per cui di fatto il funzionamento è lo stesso tutte le cose che abbiamo visto anche questa mattina a livello di preparazione del dato tendenzialmente restano le stesse ovvio che se il il diciamo il cliente in questione mi dice non voglio che i miei terreni catastali si debbano nominare terreni underscore catastali ma voglio che si nomino semplicemente terreni questo ovviamente si può fare però diciamo che il principio del del funzionamento resta al medesimo così come resta al medesimo diciamo il motore di calcolo nel senso che poi di fatto dietro l'algoritmo è ben sempre un'intersezione quindi il principio anche per la organizzazione e preparazione dei dati resta al medesimo ovviamente quello che cambia è un po' il risultato nel senso che a quel punto possiamo sviluppare il plugin affinché diciamo eh l'output finale ricalchi il più possibile nel senso che dico il più possibile perché ehm ovviamente cdu creator ehm crea in automatico un file odt che è un po' diverso ovviamente che creare il file il medesimo file odt utilizzando LibreOffice per intenderci per cui è ovvio che se nel vostro layout magari sono presenti arzigogoli vari quello potrebbe proprio essere un limite delle librerie che si utilizzano nel plugin e quindi potrebbero non essere restituiti proprio in modo identico però diciamo che ehm tendenzialmente eh c'è la possibilità appunto di sviluppare un una versione del plugin che in qualche modo ricalchi maggiormente il layout il modello diciamo di cdu della dell'amministrazione anche l'interfaccia può essere customizzata nel senso che è ovvio che se a quel punto diventa un plugin realizzato ad hoc elementi tipo il nome del comune piuttosto che il titolo del cdu piuttosto che ehm lo stemma di cui parlavamo prima eh non devono più essere selezionati da dall'operatore ma possono essere direttamente integrati nel codice e anche altre questioni ad esempio magari ehm elementi che nella versione gratuita eh non sono obbligatori possono essere resi obbligatori insomma ovviamente un po' di ehm un po' appunto di personalizzazioni di questo tipo e ovviamente anche nel caso l'aggiunta di eventuali nuove nuove funzionalità banalmente quella che vedevamo prima dell'import eh del del file di testo csv per la selezione delle particelle eh diciamo nata un po' appunto da una versione custom di cdu creator che abbiamo appunto creato di recente e che poi diciamo sembrandoci un'opzione interessante anche per la versione free abbiamo ovviamente deciso di integrare anche nella versione appunto gratuitamente scaricabile allora giusto per capirci vi apro al volo un esempio di ehm appunto ehm plugin custom vedete che di fatto non cambia molto l'interfaccia di fatto è la medesima eh semplicemente eh ad esempio l'amministrazione per cui abbiamo sviluppato questa versione ad esempio non ha il territorio eh suddiviso in sezioni per cui abbiamo di fatto rimosso tutta la parte relativa appunto alla sezione quindi solo foglio e eh e mappale e ehm abbiamo ovviamente anche tolto la appunto come vi dicevo la la necessità di dover eh inserire di volta in volta al logo queste cose qui semplicemente le abbiamo direttamente integrate nel nel codice eh ad esempio abbiamo reso tutta una serie di parametri che nella versione free sono opzionali in questo caso l'abbiamo resi obbligatori perché appunto il l'amministrazione voleva che assolutamente il insomma il tecnico che eh realizza i plugin compilasse quei determinati campi in questo caso ad esempio abbiamo aggiunto la possibilità di scegliere se creare una visura o un vero e proprio certificato con tanto di possibilità di inserire già eventualmente i codici identificativi delle marche da bollo. Inoltre eh abbiamo inserito anche appunto due intestazioni quindi la possibilità di caricare più file di testo eh che vengono inseriti in determinati punti del certificato nel caso di eh testi relativi a varianti per specifiche particelle e poi ehm abbiamo eh ad esempio aggiunto la possibilità di inserire direttamente il nome del tecnico e del dirigente che poi andranno a affermare il documento e questo è appunto il un esempio appunto di di versione custom vi parlavo eh all'inizio anche di questo sistema online che abbiamo appunto sviluppato per la gestione delle istanze e ehm che è stato proprio sviluppato e pensato un po' anche per l'utilizzo combinato con CDU creator. In che senso? Nel senso che lo scopo di questo sistema è proprio far sì che sia il cittadino che l'amministrazione comunale possa in qualche modo gestire l'iter di richiesta del CDU da parte del cittadino e poi appunto la compilazione tramite CDU creator ehm da parte del tecnico e quindi poi anche l'invio del documento eh di nuovo al cittadino. Di fatto questo sistema è ehm richiede appunto una certa predisposizione e organizzazione dei dati non solo per la compilazione di CDU ma anche tutti i dati relativi ad esempio all'utente quindi al cittadino che fa istanza di CDU e poi tutti i dati relativi all'istanza stessa. Abbiamo quindi di fatto due due dashboard principali una relativa all'utente che ovviamente si deve iscrivere al sistema e una volta logato con user e password a modo di gestire dalla sua eh dashboard ovviamente i suoi dati personali ma anche appunto tutta la parte di richiesta di CDU o eh o visura. Dall'altra parte abbiamo invece la dashboard gestore diciamo amministratore quella che invece viene visualizzata dai tecnici dell'amministrazione pubblica. In questa dashboard il tecnico può naturalmente anche lui gestire i propri dati personali gestire le istanze inviate dai cittadini e soprattutto gestire anche gli utenti iscritti al sistema quindi ad esempio banalmente potete inviare comunicazioni rimuovere utenti e via dicendo. Allora la presentazione non mi risponde ok facciamo così ecco come vi dicevo la predisposizione dei dati implica di fatto eh due database uno appunto eh che verrà poi principalmente utilizzato eh per ehm come per l'utilizzo di CDU creator è invece un database che raccoglie appunto i dati personali dei cittadini che si iscrivono il sistema al sistema e tutti i dettagli relativi alle istanze che vengono inviate dal dal cittadino. Di fatto per quanto riguarda l'utente cioè il cittadino eh il workflow è anche piuttosto semplice nel senso che ovviamente c'è c'è un form di iscrizione al sistema i suoi dati a quel punto vengono raccolti in un database e da quel momento è quindi in grado di fare richieste di CDU direttamente online. Ovviamente deve indicare le particelle per cui richiede il CDU piuttosto che la visura eh deve eh pagare eh i diritti istruttori ma anche le marche da bollo che ora in questo momento per eh l'amministrazione in questione viene gestita appunto tramite l'upload di eh autocertificazioni di pagamento ma ovviamente ci potrebbe essere la possibilità di collegare il sistema direttamente a sistemi di pagamento per le pubbliche amministrazioni come appunto pago PA una volta diciamo pagati tutti gli oneri eh che che il cittadino deve per il CDU può inviare ehm può inviare la sua richiesta ehm alla amministrazione. In questo momento la l'amministrazione riceve quindi la classica mail automatica dal sistema che gli dice appunto che è stata inviata una nuova richiesta e che nella sua dashboard quindi nella dashboard dashboard gestore troverà tutte le informazioni necessarie tra cui anche il file txt o csv da utilizzare come input di cdu creator per poter appunto compilare il cdu e poi reinviarlo al cittadino. Lato gestore infatti ehm una volta appunto ricevuta la mail accedendo alla dashboard del gestore appunto il l'amministratore quindi la la pubblica amministrazione può intanto fare una verifica ovviamente sui pagamenti effettuati può scaricare il file csv compilare il cdu tramite il plugin cdu creator creare poi il pdf firmarlo digitalmente insomma fare tutta la la componente burocratica e poi riapplodare il documento pronto per essere inviato al cittadino e appunto spedirlo al al cittadino che verrà ovviamente sempre ehm avvisato tramite un sistema di mail automatiche che tra l'altro sono state impostate per tenere costantemente aggiornato sia l'utente che il gestore quindi che il tecnico su l'andamento appunto della dell'istanza e questo e questo è quanto eh sono andata un po' lunga quindi lasciamo appunto questi ultimi dieci minuti per ehm per eventuali domande per insomma anche appunto come vi dicevo se qualcuno ha esperienze in questo in questo ambito e vuole appunto condividerle ovviamente potete aprirvi il microfono e e volentieri ne parliamo in questi ultimi dieci minuti intanto vi vi lascio anche la l'anteprima del prossimo geobreak in cui torneremo a parlare invece di GNSS quindi cambiamo completamente argomento in particolare appunto ehm il mio collega Lorenzo suppongo vi parlerà appunto di GNSS per il tracking dei lavoratori in cantiere e lascio la parola a voi se appunto avete domande e sono a disposizione. Ciao Roberta sono Ivano non so se ti ricordi. Sì ciao Ivano. Ciao e non so come tu sei mi occupo delle piattaforme telematiche per la pubblica amministrazione mi fa molto piacere che avete eh attivato un sistema di in out per la ricezione delle istanze da parte dei professionisti cittadini. Eh diciamo che mh dal punto di vista proprio del flusso eh per la ricezione della documentazione l'unica cosa che volevo poi chiedervi è se avete mh diciamo in atto anche l'evoluzione per il discorso della protocollazione del documento perché non è atto ecco io scusami eh ti stavo interrompendo. Era solo diciamo chiaramente step by step nel senso che si fanno le cose piano piano per cercare di eh introdursi in questo mondo che sta diventando abbastanza vasto con la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Eh io oltre diciamo ai sistemi di cartografia GIS mi occupo proprio di seguire le piattaforme telematiche. Mh personalmente seguo gli sportelli unici di edilizia digitale e sto guardando anche di confrontare i vostri contenuti con quelli delle piattaforme che conosco. Adesso saprete benissimo che eh in questo campo si stanno sviluppando parecchi applicativi e e anche l'interfacciamento con eh questa è la seconda domanda e l'interfacciamento con diciamo piattaforme che sono già in essere attive all'interno della pubblica amministrazione per cui eh il fatto di anche interfacciarsi sia col protocollo che potrebbe essere interessante con tracciati XML che potranno poi essere conformati per la ricezione dei dati che provengono dal vostro applicativo in modo tale da essere poi riversati in un sistema di gestione della di gestione della documentazione e quindi il tecnico poi attraverso l'istruttoria che rilascia il certificato di destinazione urbanistica eh può praticamente eh riversare eh attraverso un sistema eh PEC e poi c'è il discorso anche di gestione della sottoscrizione digitale dell'atto quindi eh ci sono vari contenuti domanda eh state guardando anche in questa direzione cioè interoperabilità con sistemi preattivi sistema di protocollazione e sottoscrizione digitale del documento? Allora sì eh come dici tu ovviamente eh step by step nel senso che ehm ovviamente eh siamo assolutamente consapevoli addirittura in realtà per altri progetti che seguiamo non strettamente legati all'argomento urbanistica ma ad altri tipi diciamo di normativa eh abbiamo già dei sistemi collegati appunto il sistema di protocollazione della dall'amministrazione diciamo che in questo caso ehm non è stato possibile non tanto per dei limiti eh tecnologici nostri ok ma perché anche l'atto amministrazione c'erano ancora un po' di ehm come dire ehm insomma ecco diciamo che anche l'amministrazione non era proprio pronta a tra virgolette supportarci anche in questa in questa in questo tipo di attività quindi infatti appunto banalmente anche la questione dei pagamenti eh non abbiamo non abbiamo potuto introdurre la questione banalmente pago pia perché appunto l'amministrazione era ancora un attimo in fase diciamo di organizzazione di eh gestione proprio da parte sua di questo tipo di 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 insomma di 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 aspetto quindi però siamo assolutamente consapevoli che eh pago pia mh sistemi di protocollazione e e addirittura eventualmente di eh appunto firma telematica dei documenti e soprattutto in questo ambito sono sono essenziali poi non so Roberto ehm mio collega se eh vuoi aggiungere qualcosa anche tu che invece appunto segui i progetti in cui questi aspetti li abbiamo già affrontati e risolti ecco ma sì sì vi sentite giusto? Sì sì chi sentiamo Roberto? E nel caso specifico quello che mancava erano l'accesso a web service normalmente i sistemi di protocollazione per quello che so io da altri progetti in cui lo gestiamo magari in realtà poi in altri progetti lo gestiamo anche assieme a un'azienda con la quale collaboriamo eh è sufficiente avere in realtà il web service che metta a disposizione che mettono a disposizione in genere i sistemi di protocollazione so che c'è quello di Maggioli ce n'è un altro non mi ricordo il nome Fodium forse eh che sono i più diffusi poi questo per sentito dire in realtà poi eh non sono cose di cui ci occupiamo in prima persona però sicuramente una volta che si ha a disposizione un web service in realtà è piuttosto semplice poi dialogare e gestire la protocollazione discorso forse un po' più complicato eh per il discorso Pago PA dove non basta forse non è un web service così semplice ma bisogna avere c'è tutta la questione del del non mi ricordo dell'intermediario e quindi dipende un po' diciamo che da quello da quello che ho studiato e che abbiamo e che ho sentito dire è molto variabile diciamo da zona a zona quindi c'è la regione che magari offre già ha già degli interventi in caso dell'unimedia anche qua in Ligure non siamo messi male so che c'è Ligure digitale fa l'interme che è la linaus della regione fa da intermediario poi però non conosco prezzi non conosco eh perché poi si scontra anche in questi casi qua con non tanto con con questioni solo tecnologiche quanto con questioni anche poi di risorse perché poi il alla fine poi al comune si va a presentare il conto e il comune dice ma come il conto purtroppo che ne deve tenere conto non solo di questioni tecnologiche ma di tutte poi quel quella grave di costi perché poi la normativa prevederebbe lo sappiamo benissimo prevederebbe eh Pago PA obbligatorio prevederebbe la PEC obbligatoria probabilmente in questi casi qua eh però poi eh per mettere in atto la normativa ci vorrebbero delle risorse che spesso i comuni non hanno ma 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 di comuni infatti mi sono permesso di introdurre questo argomento perché nel momento in cui eh diciamo avete presentato il discorso della presentazione telematica diciamo delle istanze adesso rettamente eh limitate al discorso del certificato poi ci sono tutte le istanze edilizie e è un primo passo verso un universo che si sta sviluppando eh anche per quanto riguarda il riconoscimento del cittadino attraverso il sistema pubblico di identificazione digitale che è lo speed per cui adesso tutte le 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 piattaforme eh come obbligo primo step è quello di identificarsi attraverso lo speed per poter anche scaricare un solo documento dalla piattaforma della della PIA comunque mh complimenti per il lavoro che state facendo che avete fatto io vi sto seguendo dal lato Mac perché Mac è il mio mondo come sapete un po' e però eh lavorando anche per la pubblica amministrazione seguo le piattaforme e perché no anche avere contatti con voi posso anche condividere la mia esperienza per potervi anche eventualmente mh farvi vedere quello che è la realtà io adesso non per fare nomi non voglio pubblicizzare ditte però eh diciamo ho collaborato certo mh con la Maggioli tra l'altro ho un rapporto di collaborazione perché eh scrivo alcune eh diciamo eh articoli nel sul mondo del del GIS della cartografia nella pubblica amministrazione l'ufficio tecnico di Maggioli non so se qualcuno eh conosce però in c'era Maggioli però c'è anche soprattutto gli sportelli di infocamere imprese in un giorno piuttosto che alcune ditte del cunese non so se le conoscete sono assai vicino a voi quindi SISCOM technical design eccetera con le quali io mi eh sento non dico quotidianamente ma quasi e mi fa piacere che ci sono nuove realtà di tipo open che eh si affacciano a questo mondo che chiaramente open va bene ma il lavoro che c'è dietro alle quinte solo voi potete sapere che il pacchetto finale adesso per aprire una parentesi sul lato economico se non si è una squadra numerosa di operatori che opera appunto in questo campo che possono dividersi abbassare i prezzi di vendita è veramente alto insomma perché il lavoro è enorme sia dal punto di vista del delle specifiche tecniche che a GID sta emanando e diventa sempre più complesso eh operare con questi sistemi però dal lato cittadino diventa sempre più semplice avere una finestra di interfacciamento con la pubblica amministrazione assolutamente assolutamente noi in questo senso abbiamo anche collaboriamo in realtà abbastanza strettamente già da un po' di anni eh da sempre ci sentiamo con un'altra azienda genovese quindi del territorio che conosciamo anche proprio personalmente con cui ci troviamo anche anche bene e proprio umanamente che questo anche in questi casi importa molto e che offre proprio tutta una serie di servizi dedicate alle istanze quindi normalmente quando dobbiamo realizzare qualcosa di di più dedicato appunto eh al mondo delle istanze quindi tutti questi sistemi di cui abbiamo parlato e ci appoggiamo ci appoggiamo nel senso che il lavoro cerchiamo di farlo assieme quindi di mettere di mettere assieme di essere complementari lo siamo abbastanza più forse che qualche anno fa e con loro ci troviamo abbastanza bene alla fine riusciamo a noi ci occupiamo diciamo della parte più cartografica loro più della parte chiamiamola informatica o eh burocratica però poi ci parliamo bene perché usiamo le stesse tecnologie appunto open eh siamo diciamo che abbiamo sperimentato di essere molto interoperabili e non solo a parole ma anche nella pratica quindi per questa ragione con loro ci troviamo molto bene e abbiamo stiamo ora lavorando appunto abbiamo un lavoro a cui tanto stavo lavorando mentre ascoltavo Roberta quindi eh che è proprio molto presente nel senso che avevo un orecchio a a Roberta un orecchio al e gli occhi su questo lavoro appunto e ed è proprio un caso specifico in cui in cui facciamo in cui gestiamo tutto quel tutto questo ovviamente però appunto con con ordini di grandezza che come detto crescono un po' come poi l'appetito viene mangiando quindi quando si comincia a parlare con le amministrazioni per le amministrazioni aggiungono sempre eh almeno questa nostra esperienza cominciano a dire vabbè ma allora possiamo aggiungere anche questo 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 altro e infatti in questo caso specifico li abbiamo fermati e mi hanno detto vabbè noi intanto mettiamo in atto quello che ci avete chiesto per cui avete avete dato l'incarico ve lo facciamo vedere sulla base di quello poi vediamo cosa si può fare in più e se ne riparla certo io vi faccio un buon in bocca al lupo per tutto e comunque ripeto grazie mille e ci si vede sul campo ecco certo bene se non ci sono altre domande direi che insomma possiamo chiudere che siamo più o meno questa volta riusciti a rimanere nei tempi e niente vi ricordo appunto l'appuntamento al prossimo geobreak che sarà il diciannove maggio e grazie a tutti per la partecipazione e ci vediamo al prossimo geobreak buona giornata a tutti ciao buona giornata ciao